Qualcuno dice che il Concilio Vaticano II è stata una rivoluzione copernicana, cioè come prima si diceva che il sole girava intorno alla terra e Copernico ha detto no, è la terra che gira intorno al sole, prima si pensava che il mondo fosse fatto per la Chiesa e il Concilio Vaticano II ha detto no, è la Chiesa fatta per il mondo. E allora in realtà la rivoluzione senza parlarne proprio come di rivoluzione la fece il Papa Giovanni già facendo un concilio.